spaghetti con le cozze ma quanto sono buoni facciamoli insieme iniziamo in una padella capiente già molto calda metto le cozze copro e dopo un paio di minuti man mano che si aprono le tolgo poi filtro con un collino il loro liquido sguscio una buona parte delle cozze salo l'acqua metto a cuocere la pasta poi metto l'olio in padella aglio quando sarà dorato metto il peperoncino subito gran parte del liquido delle cozze trasferisco la pasta 2-3 minuti prima della fine della cottura e faccio finire di cuocere aggiungendo all'occorrenza altro liquido delle cozze o acqua di cottura della pasta una volta al dente spengo e metto le cozze sgusciate prezzemolo fresco filo d'olio e guardate qua che cremina sono deliziosi buon appetito pasta gamberi olive e pomodorini gialli bene innamorerete facciamola insieme iniziamo pulisco i gamberetti staccando teste e carapaci che metto da parte poi tolgo l'intestino incidendo sul dorso sciacquino i gamberetti le teste di carapaci e faccio una bisca mettendo l'olio in padella aglio sedano e carota a rosolare dopo due minuti metto le teste di carapaci schiaccio poi metto il sale sfumo con la vodka ed evaporato l'alcol metto il ghiaccio così grazie allo shock termico teste e carapaci rilasceranno ancora di più il loro sapore sciolto il ghiaccio metto il doppio concentrato di pomodoro l'acqua e faccio bollire per almeno 30 minuti poi filtro e metto da parte ora olio in padella aglio dorato l'aglio metto il peperoncino subito pomodorini pizzico di sale e dopo due tre minuti metto qualche mestolo di bisque le olive snocciolate copro e faccio cuocere per 15 minuti a questo punto salo l'acqua metto a cuocere la pasta poi la trasferisco in padella due minuti prima della fine della cottura aggiungo un po di bisque e faccio insaporire e finire di cuocere quando sarà al dente spengo e metto i gamberetti il prezzemolo ed eccola qui buon appetito genovese di tonno inutile aggiungere parole fatela con me iniziamo asciugo bene il tonno dopo averlo pulito e lavato e lo taglio a pezzettini poi taglio le cipolle e per renderle più delicate e digeribili le metto in acqua tipida aceto bianco e sale per un'oretta spurgate le cipolle metto l'olio in padella un paio di acciughe sott'olio e quando l'olio sarà molto molto caldo metto il tonno dopo un minuto sfumo con il vino bianco ed evaporato il vino tolgo quasi tutto il tonno e lo metto da parte in un piatto copro con la pellicola e tengo in frigorifero nel fondo di cottura metto le cipolle che ho scolato e sciacquato poi metto il sale il pepe copro e faccio cuocere per almeno due ore a questo punto salo l'acqua metto a cuocere la pasta passo poi le cipolle in una padella metto il tonno trasferisco la pasta al dente faccio saltare mescolo poi spengo e metto un giro d'olio il pepe ultima mescolata ed eccola qui che spettacolo buon appetito spaghetti alle vongole in bianco i più semplici ma allo stesso tempo e più gustosi fateli con me iniziamo prima di iniziare faccio spurgare bene le vongole in acqua e sale per un paio di ore in uno scolapasta non a contatto con il fondo di un contenitore in modo che i detriti possano depositarsi sul fondo ci vorranno 20 grammi di sale per ogni litro d'acqua poi salo l'acqua metto a cuocere la pasta nel frattempo trito l'aglio trito il prezzemolo olio in padella metto l'aglio quando sarà dorato metto il peperoncino il prezzemolo subito le vongole copro e a fiamma alta aggiungendo un goccio di acqua di cottura della pasta faccio aprire le vongole ci vorranno 3-4 minuti aperte tutte le vongole trasferisco in padella la pasta molto al dente e facendo saltare mescolando faccio insaporire bene quando la pasta sarà cotta e ben insaporita spengo e metto altro prezzemolo un filo d'olio ultima mescolata e guardate qui che cremina sono deliziosi buon appetito